Un saluto dalla redazione di Roma Servizi per la mobilità iniziano oggi a Borgo, zona Vaticano, lavori di riqualificazione della pavimentazione su via dei corridori, un intervento finanziato con fondi giubilari che rientra nel piano capitolino di recupero e valorizzazione delle pavimentazioni storiche. Assieme a via dei corridori saranno eseguite le riqualificazioni di via Lusticucci, via dell'Erva, vicolo dell'Inferriata, vicolo del Campanile e Borgo Sant'Angelo. Intanto nel quadrante est della città prosegue l'intervento di rinnovo dei binari tramviari su viale Palmiro Togliatti per fare spazio al cantiere, la linea 14 viaggia con bus tra la brenestina altezza via Bresadola e il capolinea dei Togliatti.